Non cambia assolutamente niente, nel senso cambia il nome della droga leggera, cambia il nome del cantante del momento, cambia il vestito, una volta è largo, una volta è stretto, basta l'attitudine di fondo è sempre quello, cioè che comunque uno in giovane età, in quella fase che è il capire se stesso e il mondo che lo circonda, si ritrova inevitabilmente in una fase di contrasto comunque tra lui e il mondo di fuori, nel tentativo di capire le cose che gli piacciono e che non gli piacciono e di cambiare anche quelle che gli piacciono, facendo proprio leva sulla sua sicurezza di giovane uomo o giovane donna, però ecco c'è questa forma quasi automatica di rifiuto, di protesta e di tentativo di cambiare, poi quando andare avanti nel tempo questa fase si sopisce, mi hanno detto che non ci sia, c'è in altro modo. Anche perché io penso che i cantanti beat dell'epoca in qualche modo oggi sono sostituiti appunto dal, sono un po' il prototipo ecco di quello che può essere, in questo momento può essere l'idolo appunto, dei giovani tendenza, un po' quelli, da paragonare un po' a quelli che all'epoca scappavano al piper, magari con la minigonna nella borsa e poi si cambiavano nel bagno del piper, magari per non farsi vedere i genitori. Nel senso magari al movimento progressive, ai gruppi beat, adesso ci sta nel movimento della cultura hip hop, ai gruppi che fanno rap, cambia la musica, cambiavano lo stile, cambiavano le metriche, però poi comunque è un modo di parlare, diciamo alternativo a quello che è il mainstream. Pur diventando questi stessi, sia i gruppi di una volta, basta pensare a tutti i nomi che sono venuti fuori, infatti bravo, un giovanissimo nello zero, fino a quelli oggi poi entrare a far parte un po' di questo sistema, in questa continua dicotomia, no? Tra l'esserne fuori, però stare pure con piante dentro, per cui a volte è difficile trovare anche per un artista, come per una persona nella vita, questo equilibrio, no? Sì, ascoltami, diciamo che in linea di massima, diciamo che quello che era chiamato all'epoca beat era un'epoca di trasgressione per quanto riguarda i giovani. Qual è il messaggio trasgressivo invece che porta avanti l'hip hop rispetto alla canonicità, insomma, del vivere quotidiano? Guarda, il messaggio trasgressivo non è una parola che mi affascina molto, forse nell'hip hop non è nemmeno la più adatta. Quello che sicuramente porta di diverso rispetto a chi l'ha preceduto è un tipo di linguaggio che è un linguaggio realista. Cioè ci sono le parolacce perché nelle chiacchierate di tutti i giorni ci sono le parolacce, ci sono le incazzature perché nelle chiacchierate di tutti i giorni c'è la gente incazzata nei bar. C'è il momento d'amore perché nella giornata di tutti i giorni c'è poi alla fine il bacio con la propria donna o il proprio compagno che si ama. Cioè c'è tutto quanto senza nascondere nulla, né le cose belle che giustamente vanno esposte, ma altrettanto giustamente vanno esposte anche quelle brutte, senza fare della facile demagogia. Senti, invece, ritorniamo ancora al disco, appunto, ricordiamo appunto Multiculti, un disco che tra l'altro è uscito in questi giorni. Ricordiamo ancora anche il prezzo, tra l'altro non è un prezzo ma un prezzo consigliato che è Euro 15,90 e perciò è un prezzo accessibile. Io ricordo che la tua politica è quella sempre di abbassare i prezzi dei cd, visto che questa è una cosa che tu porti avanti, una battaglia porti avanti da molto tempo. E questo appunto va in favore dei giovani d'oggi, appunto, come il titolo della tua canzone. Comunque, ritorniamo ancora appunto a Multiculti, che è appunto l'ultimo album di Piotta. Ricordiamo appunto che tre anni dopo il presente disco che si chiamava Tommaso, è un album, diciamo, trascinante, solare, che in qualche modo effettua un'analisi spietata, diciamo, del nostro tessuto sociale dell'attuale società, tra l'altro con collaborazioni di tutti i tipi, insomma con un mix di ospiti, contenuti, linguaggi, stili e religioni e culture diverse. Tra l'altro, ricordiamo, qual è invece il tipo di, visto che proprio tra l'altro c'è un brano che nell'album si chiama Multiculti, che appunto poi dà il titolo all'album stesso, qual è l'influenza etnica che ti ha, in qualche modo, colpito di più e da cui hai tratto un'esperienza più positiva? Ma, cioè, certo, etnica a livello musicale non ce n'è una, perché il hip hop, quindi sostanzialmente, è sempre la matrice afroamericana rispetto a quella europea, che è molto meno basata invece sul ritmo. Quindi invece quella africana, invece, sul ritmo, sulla percussione si basa tutto, ed è sempre quella che, quel bunciac che mi ha sempre, insomma, colpito e fatto muovere la testa. Per quanto riguarda invece i vari viaggi che ho fatto, sicuramente, insomma, un paese del tutto nuovo e inaspettato è stato il Giappone e un altro invece viaggio che ricordo con molta passione è un concerto a Sarajevo per la pace. Eravamo tre gruppi che facevano hip hop, io dall'Italia, Atena che è una ragazza israeliana, e i calas sono un gruppo palestinese, per cui ecco qui, diciamo, questo miscuglio di persone diverse su un palco dove, grazie alla musica, la diversità non è motivo di, come spesso e purtroppo accade, anche a pochi chilometri mediterranei di conflitto, ma invece di arricchimento reciproco. Hai usato una parola molto importante, tra l'altro una parola bellissima, quasi utopistica in questo momento, pace. Qual è il rapporto più alta con la pace? Eh, io guarda, c'ho il rapporto di tutti i giorni, nel senso che, anche senza andare a scomodare i casi estremi come quello della guerra, ma anche il rapporto quotidiano di tutti i giorni, dove comunque può entrare quello che è la litigata, l'invidia, la gelosia. Cerco sempre invece di stabilire dei rapporti di grande armonia con le persone intorno a me, piuttosto sia una persona con cui proprio non riesco ad avere feeling e preferisco frequentare almeno possibile e non avere motivo di scontro, ma non per diplomazia, proprio perché è nel mio carattere, qualcuno dice anche nel senso ideale, perché il coro di solito si circonda di tanta armonia sia nelle cose che lo circondano, proprio a livello estetico che a livello appunto di armonia, equilibrio, energia positiva tra le persone. E prima hai parlato appunto del Giappone, un popolo pacifico per eccellenza praticamente, quello dei giapponesi, e praticamente come è affrontato, come è visto l'hip hop in Giappone? Prima mi ha incuriosito questa... L'hip hop è visto molto bene, nel senso che in tutti questi paesi che ti ho detto, che ho visto, più altri che non ho visto, ma so che sono importanti, tipo per esempio il Sudafrica o l'Australia, la scena hip hop dilaga in maniera vertiginosa e non singole canzoni come funziona qui da noi, un po' come la musica dance, una canzone va, poi lo stesso artista ne fa un'altra e non se lo fila nessuno. C'è proprio un amore per questo suono, per cui c'è un album intero non a ragionare a singole canzoni. E questo sta accadendo anche in paesi inaspettati, che da pochi anni fa, uno su tutti, la Polonia. Ad esempio i Beastie Boys stanno preparando il tour mondiale, non vengono in Italia ma vanno in Polonia, perché l'hip hop polacco sta mediamente nelle altissime posizioni della classifica e anche con grande successo dal punto di vista di musica dal vivo. Guarda, c'è la linea, diciamo, la musica melodica in generale ha sempre, come dire, in tutti gli anni è riuscita a resistere. L'hip hop è un'innovazione, come dire, una musica innovativa che porta una vendata di entusiasmo diversa, quasi si distingue. Io ho un esempio che ti faccio, per esempio, molto spesso partecipo ai festival di danza, come giuria. Ci sono i vari tipi di danza, dalla classica alla modern jazz e roba del genere. E poi c'è l'hip hop. L'hip hop suscita sempre un entusiasmo e quasi delle scene di stilismo collettivo, quasi una meditazione diversa. È come se avesse una marcia in più. Questa è l'impressione che ho io... E qual è il segreto di questo tipo di musica?